Buonasera ad Alessio Buompasso, bentornati a Doctor Sport. L'ultimo appuntamento della settimana, quello in cui come di consueto ci proiettiamo sul weekend sportivo a Calabrese. Lo faremo parlando di calcio, ma non possiamo non farlo anche come ogni venerdì, ormai in maniera classica con il basket e con Francesco Creazzo da Reggio Calabria. Ciao Francesco. Ciao Alessio, buonasera a tutti. Come stai? Bene, bene, grazie. E voi? Tutto a posto, avete ritrovato anche il successo da quelle parti in tema basket, in tema viola Reggio Calabria, questo ritrovato sorriso contro il Trapani. Sì, assolutamente, la viola per la prima volta in stagione probabilmente vince e non soltanto, convince anche perché... E questa è una notizia. La partita... Esatto, sì, assolutamente, perché fino adesso le vittorie che erano arrivate, salvo la prima vittoria, quella di Omenia a Omenia, erano state tutte vittorie comunque sofferte. Esattamente contro il Trapani, la viola, salvo complicarsi leggermente la vita nel finale, perché era troppo bello e non poteva durare, ha dominato assolutamente, ha condotto la gara sempre in vantaggio, senza mai mettere in discussione il risultato quantomeno. Quanto c'è di Frates in questo successo, secondo te? Di Frates c'è molto, non so se dal punto di vista tecnico sinceramente non sono in grado di giudicare se Benedetto avrebbe vinto questa partita, o meno c'è molto dal punto di vista dell'entusiasmo della squadra che si trova davanti all'ennesimo, si è trovata davanti all'ennesimo nuovo inizio in stagione. E sicuramente ha ben risposto, per la verità l'abbiamo detto, ha ben risposto anche nelle precedenti due uscite condite però da due sconfitte, cioè in casa contro Siena e in trasferta contro Roma, però ripeto sono arrivate due sconfitte ma i cambiamenti si erano già visti. L'unico cambiamento che forse è negativo nella gestione Frates è il rendimento di Roberto Rullo che nella conferenza stampa post gara ha lui stesso ironizzato per la verità su mia domanda, io ho detto una prestazione non brillante e lui ha risposto ho fatto, insomma ecco non ho giocato bene. Non possiamo dirlo in tv però insomma si è capito. Non possiamo dirlo, però insomma Roberto Rullo che ha fatto 1 su 14 contro Siena, stessi numeri contro Roma e per la verità 2-3 bombe invece contro Trapani sono entrati, ma non sta trovando la vena offensiva mentre sta trovando bene sul lato debole argomento dal punto di vista tecnico forse sottovalutato dalla gestione Benedetto, sta trovando una buona difesa sul lato debole che è il compito a cui l'ha assegnato in quella metà del campo proprio coach Fabrizio Frates. Insomma al di là poi del rendimento di Rullo sono arrivate le prime risposte, è ritornato il successo, però insomma la svolta non c'è stata almeno sulle speranze immaginiamo della società Tantè che poi in settimana Condello, il dirigente della Viola Reggio Calabria, ha parlato già guardando quasi alla prossima stagione, guardando al futuro pensando soltanto alla salvezza. Ma è chiaro che questa è una stagione fallimentare da ogni punto di vista per la Viola, adesso si cerca chiaramente di salvare il salvabile, di arrivare a una salvezza tranquilla il prima possibile, ci sono sette partite avanti e vanno vinte tutte assolutamente, non c'è nessun altro risultato disponibile o meglio, in realtà non è necessario vincerle proprio tutte per salvarsi ma bisogna giocare per vincerle per poi salvarsi, non so come dire. Come diceva Mazzarri ai tempi del meno 11 e la Regina ogni partita per noi è una finale, la Viola si trova esattamente nella medesima situazione, quindi in questa ottica è chiaro che è una stagione in cui la Viola ha tentato probabilmente ingenuamente, probabilmente con i mezzi sbagliati di fare il salto di qualità, il salto in basket che conta, non c'è riuscita, quindi situazione finanziaria permettendo si ritenterà l'anno prossimo, è chiaro che la società in questo momento ha l'obbligo di guardare al futuro ed ha l'obbligo anche di guardarsi in casa, perché ci sono delle eccellenze regine con cui la Viola non ha parlato e magari potrebbe cominciare a coinvolgere, non lo so, questa è una idea mia, sicuramente a investire come già sta facendo per la verità sul settore giovanile, sullo scouting, perché ricordiamo che i fasti e le glorie della Viola 1.0, diciamo così, furono fatti furono fatti della gestistica Piero Viola, ma anche del nuovo basket Viola, furono fatti proprio sullo scouting, le fortune Che diventa sempre più fondamentale in questo sport Assolutamente, perché se no ci si affida sistematicamente ai procuratori e chiaramente il GM Condello ha fatto esperienza, non è una critica da parte mia, ma è semplicemente la realtà dei fatti Quindi ha fatto esperienze negative da questo punto di vista, non quest'anno, quest'anno è tutto un altro discorso, ma sto parlando di anni fa quando andammo a prendere americani come Chion Bell, che poi si rivelarono essere non all'altezza delle aspettative e quant'altro finisce per affidare a procuratori che ovviamente vendono il proprio prodotto e spesse volte gli interessi non collimano E le risposte soprattutto non arrivano Senti, guardando sempre al futuro, è chiaro lo stiamo dicendo adesso a 10 partite dalla fine con tanti mesi di anticipo Ma secondo te Frates potrebbe rientrare nei piani della Viola anche per il prossimo anno? Sì o no secondo te? Ma questa domanda che abbiamo posto un po' tutti non c'è stata data risposta Anche perché il contratto di Frates è un contratto molto oneroso Non adesso, ma voglio dire in ottica progettuale per un anno intero Comincia a diventare un contratto molto oneroso Ci sono altri allenatori liberi che possono essere presi durante l'estate Che si libereranno Sinceramente non lo sa nessuno in questo momento È chiaro che è una delle opzioni più calde Se Frates lavora bene Se Frates riesce in questo scorcio di campionato che gli è rimasto A centrare gli obiettivi che gli sono richiesti dalla società Sicuramente la sua posizione verrà considerata Anche perché Frates è una persona perfettamente in grado di dare una mano Proprio al GM Gaetano Condello dal punto di vista della costruzione dell'organico In futuro perché è uno dei più grandi conoscitori del piccolo mondo del basket italiano Non c'è un giocatore che lui non abbia scautizzato Io ritengo che ne abbia più di 20.000 schede O qualcosa del genere Nel frattempo il tecnico Nero Arancio proverà ad infilare il bis di successi Contro l'Agropoli Che non è proprio una squadra facilissima da battere Agropoli è una delle Personalmente Opinione personale è una delle mie squadre preferite del campionato Perché? Perché si presenta con un organico dignitoso Di giocatori solidi, quadrati, pane e salame Come si suol dire Ma grazie a una vecchia conoscenza del basket reggino Come il coach Antonio Paternoster Già allenatore della Vis Già alla Viola Riesce a esprimere un gioco totale Facciamo un po' il calcio totale olandese Il basket totale di Agropoli Un gioco di squadra che abbiamo visto All'andata contro La Viola dove Agropoli è venuta a passeggiare Praticamente al pallacalafiore Però allo stesso tempo Rivediamo una squadra che tecnicamente Dovrebbe occupare Le ultime posizioni nella classifica E stare lì assieme a Diella, Omenia Sono tutte buone squadre Non ci sono squadre materasso Nel nostro girone A differenza che nel girone est Dove c'è Matera Che nonostante la cura di un altro ex Viola Francesco Monticello Continua a perderle tutte Dicevo non ci sono squadre materasso Agropoli dovrebbe occupare I bassi fondi della classifica Ma così non è Perché ha fatto un girone d'andata Strepitoso Addirittura è la capolista Poi un girone di torno Abbastanza schizofrenico Perché se andiamo a guardare Gli ultimi risultati Perde di 40 punti a Roma Poi vince contro Biella Poi batte addirittura in casa Sua la capolista Scafati Adesso viene Reggio Calabria Anzi Reggio Calabria Va ad Agropoli Ed è una partita Sinceramente imprevedibile Perché se Agropoli È l'Agropoli Che ha giocato Contro Roma Allora È Una partita Se Agropoli È l'Agropoli Che ha giocato Contro Scafati È chiaro che la partita È completamente un'altra È completamente un'altra In bocca al lupo Quindi alla Viola Reggio Calabria Buon lavoro Francesco Creazzo Grazie Buon lavoro a voi Buonasera a tutti E ringraziamo ancora Quindi Francesco Creazzo Da Reggio Calabria Ci ha raccontato Un po' le dinamiche L'aria che si respira Reggio Calabria Parlando di basket Dal basket però Ci spostiamo al calcio Guardando a quello che succederà Nel weekend E anche nel mondo Del pallone Partendo dalla Serie B Partendo dalla Crotone Che verrà chiamato Ad una sfida Importante Dentro le muramiche Deve ritrovare il successo Casalingo La squadra di Majuric Dovrà farlo Contro il Vicenza Un'altra di quelle Formazioni da prendere Con le pinze Come ha detto Ai microfoni Il difensore pitagorico Ferrari Sentiamolo Noi dobbiamo sempre entrare Con il 100% Di concentrazione E determinazione Per cercare di fare Quello che stiamo facendo Dall'inizio dell'anno Beh, Rajcevi è un buonissimo giocatore Anche perché ricorda Budimir Vagamente come le movenze Tutte queste cose qua Lo stesso Ebbac Insomma, sono tutti davanti Sono tutti Buonissimi giocatori Come ho detto prima Dobbiamo entrare in campo Giusti E cercare di Limitarli E poi fare il nostro gioco Come abbiamo visto anche col Perugia Se non entriamo in campo Giusti Cioè Il nostro peggior avversario Siamo noi Quindi dobbiamo sempre Entrare con la giusta determinazione Sempre Le stesse cose sono Però è vero Perché alla fine Quando noi caliamo leggermente Magari non facciamo La nostra prestazione Che solitamente facciamo E di conseguenza Dobbiamo Più pensare a noi Che agli altri Non era facile Anche perché tutti Le squadre che sono affrontate Si chiudevano dentro E facciamo fatica A trovare degli spazi Però Noi siamo consapevoli Che all'uscita Possiamo fare bene Cercheremo di ottenere Il massimo Anche questo sabato E questo era Gianmarco Ferrari Difensore del Crotone Che guarda Al prossimo avversario Il Vicenza Che affronterà Appunto i Pitagorici All'interno Del Lezio Scida Lì dove la squadra Di Juric Come dicevamo Deve ritrovare Il successo Casalingo Crotone quindi Contro Vicenza Ma importanti E affascinanti Sono anche le altre sfide Di Serie B Nel prossimo turno Andiamo a leggere insieme Novara Provercelli Avellino Livorno Cesena Cagliari Ovviamente Brescia Como Latina Modena Pescara Ascoli Ternana Spezia Trapani Salernitana Entella Perugia E Lanciano Bari Si riparte Da questa classifica Con il Cagliari Davanti a tutti A 61 punti Segue il Crotone A 56 Poi il Pescara Molto più staccato Ma deve restare Il medesimo Lo stacco Con 48 punti Cesena 43 Novara 41 Bari Novara 42 Bari 41 40 punti Per Entella e Spezia 39 per il Brescia 37 per Lavellino Ternana 36 Come il Trapani Perugia 34 Latina 33 Livorno e Ascoli 31 Vicenza 30 Modena 29 Provercelli 28 26 punti Per il Lanciano 25 per la Salernitana E chiude il Como Con 21 punti Sarà importante Anche il prossimo turno Di Lega Pro Con il Cosenza Che affronterà La Juve Stabia Mentre il Catanzaro Affronterà il Martina Franca Di fatto due squadre Che nell'ultimo turno Si sono date a battaglia Con quel clamorosso 6 a 0 Imposto Dalle Vespe Stabiesi Sui Pugliesi Queste le sfide Il prossimo turno Acregas Paganese Benevento Matera Catania Casertana Cosenza Juve Stabia Come dicevamo Foggia Lupa Castelli Romani Ischia Lecce Martina Franca Catanzaro Appunto Melfi Monopoli Messina Fidelisandria Anche qui si riparte Da questa classifica Davanti a tutti C'è il Benevento Con 45 punti Segue Lecce A 42 Foggia E Cosenza A 41 Casertana 40 Matera 34 Paganese 32 Messina 31 Fidelisandria 28 Come Lacregas 27 punti Per la Juve Stabia 26 Per il Catanzaro 25 Per il Catania 24 Per il Monopoli Melfi 22 Ischia 20 Martina Franca 13 Chiude Lupa Castelli Romani Con 8 Punti Dicevamo Juve Stabia Dicevamo Vespe Stabiesi Prossimi Avversari Del Cosenza Avversari Che conoscevo Meglio In questo servizio A uno degli attacchi Più prolifici Del girone Ma anche una Delle difese Più colabrodo Del torneo La Juve Stabia Di Zavettieri Non conosce Mezze misure Costruita per vincere Ha dovuto ridimensionare I propri piani Lungo il percorso Troppe sconfitte Nella prima parte Del campionato Troppi Pareggi Tra fine girone D'andata Ed inizio girone Di ritorno Dopo il giro Di Boa Ha aggiustato Il rendimento interno Ma ha perso Il bandolo Della Matassa Lontano da Castellammare Dove ha raccolto Due sconfitte Su tre gare Disputate in trasferta Nell'ultimo turno Ha fossato il Martina Con un roboante 6 a 0 Risultato tennistico Che ha messo in risalto Le qualità Degli attaccanti Stabiesi Un reparto In cui spicca Stefano Del Sante Ex bomber Della Vicor Trasferitosi In campagna A gennaio Dopo aver fatto Ritorno a Pavia Una vecchia conoscenza Del calcio calabrese Del Cosenza Contro cui Del Sante Ha già giocato In maglia bianco verde Mister Rosselli Lo conosce bene Per averlo avuto Con sé Ai tempi dell'Ecco La sfida Si giocherà Sabato Alle 17.30 Al Gigi Marulla Lì Dove i lupi Silani Proveranno a mantenere Imbattuto Il proprio stadio Cercando il sorpasso Su Foggia E Lecce Questi temi Legati Alla sfida Tra Cosenza E Juve Stabia Juve Stabia Come si diceva Anche nel servizio Che ha affossato Con un tennistico 6 a 0 Il Martina Franca Martina Franca Che sarà Il prossimo Avversario Del Catanzaro Insomma Un match ball Da non fallire Per la squadra Di Alessandro Erra Proprio in questo turno Dopo la lupa Castelli Romani È la squadra Più battuta Del torneo Non per nulla È relegata Alla penultima Posizione In gradatoria generale Il Martina Franca Sarà costretto A soffrire Fino all'ultimo Dalla Triplice fischio Contro la Juve Stabia È orfano Del tecnico Marco Cari Esonerato Dopo il tennistico 6 a 0 Imposto Dalle Vespesta Biesi Il suo successore Non è stato ancora deciso La società infatti Si è riservata 10 giorni Per individuarlo Affidando temporaneamente La panchina Al secondo Di Cari Furlanna Con questo spirito Sabato alle 20 e 30 Ospiterà il Catanzaro La squadra di Alessandro Erra Non può farsi sfuggire Questa opportunità Battere I pugliesi Ed infilare Il primo successo Del 2016 Sarebbe la miglior medicina Per uscire Dall'Empass Dopo un periodo In cui le Aquile Giola Rosse Sono scivolate Lentamente in classifica Fino a sfiorare La zona calda Della graduatoria generale Peggio della lupa Il Martina Ha il rendimento esterno Lontano Dalle mura amiche I Laziani Hanno conquistato Almeno un punto I pugliesi Nessuno Meglio il cammino interno Dove ha battuto Juve Stabia Acragas E la stessa lupa Roma Sono stati gli unici Sorrisi Da tre punti In campionato Poi solo pareggi E tante sconfitte Ben 15 All'andata Bastò un gol Di Ingretolli Per regalare Il primo successo Stagionale Al Catanzaro Insomma Questi pregi Pochi Tanti Invece i difetti Del Martina Franca Lo dicevamo Una chance Da non sprecare Per la formazione Giallorossa Per poi andare A scrivere Il primo successo Targato 2016 Questo Il programma In Lega Pro Andiamo però Anche in Serie D Perché sarà un weekend Tutto Da non perdere Nel massimo torneo Dilettanti Non solo perché A Vibo Valencia Si giocherà Il derby di Calabria Storico Tra la Vibonese A Reggio Calabria Ma anche perché Ci saranno altre sfide Tutte da gustare Le andiamo a leggere Insieme Con l'aiuto della grafica Frattese Agropoli Vigor Lamezia Versa Norman Rende due torri Marsala Gelbison A Siracusa Noto Gragnano Palmese Cavesse Sarnese Vibonese Reggio Calabria Come abbiamo detto Che si giocherà A Luigi Razza E poi Leon Fortese Roccella Queste le sfide in programma Si riparte da qui Si riparte da questa Graduatoria generale La che avesse A 56 punti E la prima In classifica Frattese 54 A seguire Siracusa 52 Reggio Calabria 41 E Vibonese 40 Insomma basta vedere E leggere questi numeri Per capire quanto ci si gioca A Luigi Razza di Vibo Domenica Poi a Versa Normanna 39 37 punti Per Sarnese E due torri Leon Fortese 35 Gragnano 33 Marsala 32 31 punti Invece per Noto Ed Agropoli Palmese 29 Come in Roccella Rende 28 Gelbison 24 Vigor La Mezzia 21 E Scordiega Chiude A 17 punti Dicevamo Super Derby di Calabria A Luigi Razza Tra la Vibonese E la Regina Come si presentano Le due squadre A questo match Lo scopriamo in questo servizio Vibonese vs Reggio Calabria Il pareggio potrebbe favorire infatti La Versa Normanna Impegnato sul campo Della Vigor La Mezzia E' la prima volta Che la maggiore formazione Di Reggio Sbarca in provincia di Vibo Per una gara ufficiale Non il primo confronto assoluto Tra le due squadre Già affrontate Sin diversi amichevoli E soprattutto nel match D'andata Quando al Granillo Si impossero Giamaranto Con un rigore contestatissimo Trasformato d'arena Che lasciò il rosso-blu In svantaggio E con un uomo in meno Ci sarà anche questo Nei pensieri dei 22 in campo Due domeniche fa La Vibonese Ha spezzato L'incantesimo casalingo Ritrovando il successo Dopo tre mesi La Regina Proverà a fare lo stesso In trasferta Dove non vince Da oltre 70 giorni A fare da contorno Il pubblico Delle grandi occasioni Non ci sarà carrozza Tra gli ospiti Nessun assente Tra il rosso-blu Queste le dinamiche Legate al derby Di Calabria Tra la Vibonese E il Reggio Calabria Che si giocherà Appunto a Luigi Razza Domenica A partire dalle 14.30 Ma evidentemente Le due squadre Seguiranno Anche attraverso I propri collaboratori Quello che succederà Alla Mezzia Terme Tra la Vigor La Mezzia E la Versa Normand La Versa Normand È la diretta concorrente Sia del Reggio Calabria Che della Vibonese Ai play-off E quindi Insomma Una squadra bianco-verde Quella di Antonio Gatto Che farà Da arbitro Se vogliamo A questa super sfida Play-off Il passo falso Sul campo del Due Torri Ha interrotto il filotto Di risultati utili Che aveva permesso La Vigor Di riaprire In maniera clamorosa La lotta a salvezza Ma il capo In terra sicula Non ha spezzato La voglia dei bianco-verdi Tirarsi fuori Dalla zona retrocessione In settimane È arrivato Essabra E questo è tutto dire In settimana Hanno ribadito La loro volontà Di uscire Dalla zona rossa Della graduatoria Staff tecnico Giocatori e dirigenza I Gatto Boys Hanno una buona chance Per riprendere il cammino positivo Non tanto Per la squadra Che si ritroveranno Di fronte La Versa Normand Quanto piuttosto Perché affronteranno I campani in casa Fortino Inespugnabile Ormai da quasi Cinque mesi Potrà contare Sul fattore di Polito La formazione vigorina Ma servirà anche Tanto altro Per battere una squadra In serie positiva Da cinque turni E che domenica scorsa Ha fatto venire Brividi Alla capolista Cavese Sullo stadio Lametino Ci saranno idealmente Anche gli occhi E le orecchie Delle cugine Vibonese E Reggio Con la Versa In lotta Diretta Con i rosso-blu Ed amaranto Per un poste playoff Un possibile successo Vigorino Farebbe sorridere Anche le altre due Compagini calabresi Non proprio qualcosa Di imponderabile Considerato Il ruolino esterno Dei campani In trasferta La Versa Normand Non vince Dallo scorso 20 dicembre Due torri Che ha battuto Proprio Nell'ultimo turno La Vigor Lamezia Due torri Che sarà invece Il prossimo avversario Del Rende Chiamato A non fallire Questa opportunità Nell'ultimo turno Ha battuto La Vigor Lamezia Spezzando La serie positiva Delle Ametini Ed allungando La propria striscia Con il segno Più in casa Il due torri Ha ripreso A macinare punti Davanti al suo pubblico Ma in trasferta È una squadra Che ha completamente Perso il bandolo Della Matassa L'ultimo acuto esterno Del gruppo di Venuto È datato addirittura Primo novembre Buon per il Rende Che domenica Ospiterà i siciliani A Lorenzon I silani sono con entrambi I piedi Nelle zone melmose Della graduatoria Il tempo Per uscirne c'è Ma è sempre più ridotto Con il due torri Non è una finale Ma è come se lo fosse Il pari con la Gelbinson Non è stato Un passo falso Ma quasi Contro una diretta concorrente Un punto è troppo poco Per rialzare la testa Mister Trocini Ritrova scarnato Il giudice sportivo Accancellato La terza giornata di stop Rimediato dal giocatore Nel match contro la Regina E il difensore Sarà dunque a disposizione Del tecnico Silano A nove giornate dal termine E con ben cinque gare Da giocare in casa La salvezza bianco-rossa Passerà inevitabilmente Dal Lorenzon A partire da domenica A partire dalla sfida Contro il due torri Obbligato a vincere Anche il Rocella Che rientra in campo Dopo il turno di riposo Beh quanto sarà servito Questo turno di stop Agli uomini di Galati Per ricaricare le batterie E puntare dritto Alla salvezza Si capirà molto In questo senso Sul campo Della Leonfortese Quanto sarà servito A Rocella Il turno di riposo Per ricaricare le batterie Riorganizzare le idee Raccogliere le forze E puntare dritto Alla salvezza Lo capiremo domenica A partire dalle 14.30 Quando i regini Scenderanno in campo A Leonforte Contro la formazione locale Della Leonfortese Forse il peggior avversario Che potesse capitare La squadra siciliana È reduce Da tre stop esterni Consecutivi E due pari di file in casa Ad aumentare le motivazioni Tra i leoncini bianco-verdi La sconfitta Rimediata in Calabria Nel match d'andata Peraltro Davanti al pubblico amico I siciliani Hanno un rullino Di tutto rispetto Solo una sconfitta In casa Lì dove hanno avuto La meglio Anche sulla capolista Cavese Sulla frattese E sul reggio Calabria A fare la differenza Una difesa ben oleata Ed un attacco In cui hanno trovato gioia Ben dieci giocatori diversi Quasi un record Nel torneo Riflettori puntati Sul capocannoniere Cortese A segno Già sette volte Per tornare in Calabria Con qualcosa in tasca Bisognerà stare attenti Soprattutto a lui E non può fallire Neppure La squadra Di Rosario Salerno La palmese Che affronta Un Gragnano Insomma In serie Positiva Un Gragnano Che sicuramente Farà sudare Le classiche Sette camice Alla formazione Nero-verde Precipitata Come sapete Paurosamente In zona play-out Nella sfida D'andata Fini 0-0 Un risultato Che oggi Non servirebbe A nessuno Non servirebbe Alla palmese Scivolata Paurosamente In piena zona Play-out Non servirebbe Al Gragnano Che in classifica È messo meglio Dei Calabresi Ma non può certo Cullarsi Sui 33 punti Inanellati Fin qui Un successo Permetterebbe Alla formazione campana Di dormire sogni Più tranquilli Nell'ultima parte Del campionato Dall'altra parte Del campo Invece Darebbe alla palmese Una nuova linfa Da cui ripartire Per puntare Con più convinzione La salvezza Cosa che ad oggi Sembra improbabile Non tanto Per le prestazioni offerte Quanto piuttosto Per la mancanza Di uomini Di esperienza Che possano imprimere La svolta necessaria Al mantenimento Di categoria Troppe le assenze Troppi I tasselli fondamentali A cui Rosario Salerno Ha dovuto fare a meno Nell'ultimo periodo Uomini A cui il trainer Nero verde Dovrà rinunciare Anche nella città Della pasta Dopo i 12 pareggi Consecutivi Il Gragnano È tornato a vincere A suonare lo squillo Da tre punti Il bomber Della girone Ciro Foggia Rientrato a Scordia È subito in gol Servirà la migliore palmese Per fermare Il re degli attaccanti Del campionato E strappare via Dalla campagna Punti salvezza E allora questo è un po' Il punto Su quello che ci aspetta Nel weekend Sportivo calabrese Lo abbiamo fatto Attraverso il basket Lo abbiamo fatto Poi Lungo il calcio Serie B Lega Pro E serie D Serie D che vi ricordo Seguiremo in diretta A partire Dalle 14.15 All'interno Della nostra domenica Con Erika Cunzolo E Sharon A Fanelli Insomma Se non avete la possibilità Di andare allo stadio Mettete sul 19 Ci siamo noi Ve la raccontiamo Noi Le partite di Serie D Grazie per averci preferito Doctor Sport Torna la prossima settimana Buona serata Adlessio Buon passo Buon примерно Buona essere Ma seconda Buona domenica Ma seconda Buona Vorata Parto Far Con Erika Buona INTRO Buona